La prima giornata dopo lo stop di gennaio dovuto alla pandemia coincide per il lanciano con l'esordio in panchina di mister Pedro Pasculli. Il dopo Bellè parte dunque dal Biondi in uno scontro diretto per le posizioni playoff tra i frentani e la torrese di Remigio Cristofari. Gli ospiti chiariscono sin da subito la loro intenzione di sorprendere i rossoneri e vanno a qualche centimetro dal bersaglio grosso con la conclusione di poco fuori di Gentile già al secondo minuto. Sono le avvisaglie al gol del vantaggio che la torrese trova già al quinto minuto con Selmanai abile a saltare due difensori del lanciano e a concludere in rete battendo l'esai. La torrese continua a spingere e serve un grande intervento del portiere di casa per tenere a galla o lanciano completamente allo sbando in avvio. Ancora la torrese ad un passo dallo 0-2 al 23esimo su un cross dalla tre quarti e l'esai riesce soltanto a sfiorare il pallone e il restaneo tocca quanto basta per indirizzarlo verso la porta. La sfera però viene salvata in angolo dalla difesa di casa. Il pressing degli ospiti prosegue e quando mancano dieci minuti al termine della prima frazione Grauberg conclude una bella azione verso la porta di l'esai. La sfera termina sul fondo. Il lanciano prova timidamente a reagire a qualche giro di lancetta dal termine del primo tempo. La punizione di Carella è però facile preda di Abate. I padroni di casa hanno un guizzo proprio allo scadere sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il colpo di testa di Tissone da corner è fuori di pochissimo. La ripresa dovrebbe vedere un lanciano subito arrembante ma è ancora una volta la torrese a sfiorare il centro dello 0-2. Il bersaglio grosso però non viene centrato. La reazione dei frentani stenta ad arrivare e al 24esimo è ancora pericolosa la squadra di Cristofari con Santi Rocco che spara alto davanti a Delezzai dopo un rimpallo. Gentile a 10 minuti dal novantesimo continua la sua personale ricerca del centro dello 0-2. Ancora una volta però la conclusione è fuori. La reazione del lanciano stenta anche durante i 5 minuti di recupero concessi dal signor Esposito di Pescara e dal triplice fischio finale lo 0-1 del Biondi passa alla storia così come la prima amarezza di mister Pasculli sulla panchina frentana. Mister Lanciano torrese 0-1 un esordio amaro per lei sulla panchina del Lanciano? Sì amaro per la sconfitta dopo tanto tempo di stare fermi diciamo che è normale che ti fa male perdere una partita così con un solo tiro in porta, una soluzione che magari potrebbe essere anche rimediata da parte nostra perché magari siamo arrivati un po' in ritardo alla chiusura però fa parte del calcio comunque il campionato è lungo e dopo la ripresa del campionato dove stare così tanto tempo fermo non era facile ripartire. Sono arrivato venerdì, ho fatto venerdì allenamento, un sabato e siamo andati a giocare. Adesso riparte da martedì, cominciare a fare quello che dobbiamo fare, mettere la squadra a posto fisicamente, metterla bene fisicamente perché è quello, è mentalmente. Non posso rimproverare, non posso dire niente ragazzi solamente che dovevano entrare con un po' più degrinto, un po' più vogliosi però sono fiducioso. Commissario Cristofari, finale 0-1 per la Torrese a Lanciano però mister veramente la Torrese in grande grande controllo. Sì è stata una partita quasi perfetta, l'unico romarico è stato quello di non averla chiusa prima, abbiamo trovato il gol del vantaggio nei primi dieci minuti di gioco, poi siamo stati in controllo, abbiamo avuto altro paio di occasioni per poter fare il secondo gol, non abbiamo praticamente rischiato nulla solo su un calcio d'angolo che abbiamo regalato, però insomma al secondo tempo siamo rientrati con grandissima personalità in gestione della partita, loro hanno avuto un pochino più il predominio del gioco ma noi abbiamo fatto delle ripartenze importanti, la mia squadra la cosa che più mi fa piacere è essere venuta qui con 2-2003, un 2002, 2-2001, un 2000 dall'inizio e ad aver affrontato una squadra secondo me molto forte, non rispecchia assolutamente il valore, non rispecchia la classifica che ha, aver fatto un secondo tempo veramente incomiabile da parte di tutti, anche di chi è subentrato voglio citarli, avevamo assenze importanti, mancava Di Lallo, mancava Sasa, Festa, insomma nonostante le assenze, questo è un gruppo che chiunque gioca dal suo contributo lo fa alla grande e oggi ci siamo ripresi un po' dalla delusione e dal rammarico che abbiamo maturato domenica scorsa uscendo dalla semifinale di Coppa Italia, quindi sono veramente molto soddisfatto e contento di questo gruppo, i ragazzi sanno che dobbiamo continuare a lavorare, il primo maggio tireremo le somme, ma insomma la strada è quella giusta.